Dopo le parole a sostegno del presidente bielorusso Lukashenko, Vladimir Putin invia mezzi militari verso il confine manifestando concretamente l'ipotesi già ventilata di un intervento militare. Dalla Lituania torna a parlare la leader dell'opposizione, sono pronta a guidare il paese, dice mercoledì, il vertice straordinario convocato dall'Unione Europea. Scatta da oggi lo stop alle discoteche, fino al 7 settembre balli vietate in tutta Italia e questa volta senza alcuna deroga. La stretta decisa dal governo dopo il nuovo confronto con le regioni riaccende la polemica politica e suscita le proteste dei gestori malgrado la promessa di indennizi. Nell'ordinanza del Ministero della Salute previsto inoltre l'obbligo di mascherine all'aperto dalle 18 alle 6 del mattino nei luoghi a rischio assembramento. Nei principali scali italiani è corsa contro il tempo per effettuare i tamponi sul posto ai viaggiatori che rientrano da Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Pochi gli aeroporti già operativi. Il primo caso positivo è stato accertato a Fiumicino, si tratta di un ragazzo di ritorno da Malta. 479 i nuovi contagi registrati ieri, un dato in calo derivante però dal minor numero di tamponi effettuati. Missione in Tunisia per la ministra dell'interno Lamorgese e il titolare degli esteri di Maio per mettere un freno alle partenze dei migranti sollecitare un aumento dei rimpatri. Da inizio anno sono circa 6.500 i tunisini approdati sulle nostre coste con piccole imbarcazioni, quasi la metà del totale degli arrivi. Una questione di centimetri suscitano ancora i brividi, le immagini della spaventosa carambola nel MotoGP in Austria con Valentino Rossi che per pochissimo non è stato colpito dalla moto di Morbidelli. Il dottore accusa Zarco, mai rischiato così, va punito. Stasera per il calcio l'Inter contro lo Shakhtar Donex si gioca il passe per la finale di Europa League. Chi vince affronterà il Sivilla che nell'altra semifinale ha sconfitto il Manchester United. Buongiorno dalla telegiornale della Sette, dunque andiamo subito in Biero Lussia per l'alta tensione politica e sociale che c'è nel paese con il Consiglio europeo che poco fa ha fissato un vertice straordinario per mercoledì per discutere di quanto sta accadendo dopo le immagini di ieri dell'oceanica folla che ha manifestato a Minsk contro il governo di Lukashenko al potere da 26 anni, rieletto recentemente come sapete da elezioni alquanto contestate. Vladimir Putin non fa mancare il suo sostegno e muove mezzi verso il confine. La questione Bielorussia si fa sempre più preoccupante. L'allarme arriva da più fronti, il primo quello di Mosca. Decine di camion militari e 600 uomini sarebbero stati visti sulle autostrade russe al confine verso Minsk come dimostrerebbe questo video. Esattamente come accadde per la Crimea i camion sono senza insegne così come le divise dei soldati a bordo. Dal fronte interno la Bielorussia avrebbe cominciato esercitazioni militari al confine con la Lituania, mentre le proteste contro il presidente Lukashenko non si placano. Oggi hanno manifestato i lavoratori delle fabbriche di tutto il paese pronti a proclamare lo sciopero generale per ottenere l'annullamento delle elezioni e lo stop delle violenze contro i contestatori. Non siamo pecore, non siamo venti, ma 16.000, recita questo striscione, ma il presidente tira dritto e ribadisce che nuove elezioni sono fuori questione. Sul fronte europeo, mercoledì prossimo, i capi di stati di governo dell'Unione in seduta straordinaria discuteranno la situazione in Bielorussia, mentre la Germania, che detiene la presidenza di turno dell'Unione, minaccia nuove sanzioni verso Minsk. Nelle stesse ore Svetlana Tikhanovskaya, l'ormai ex sfidante di Lukashenko alle elezioni, costretta a rifugiarsi nella vicina Lituania per evitare l'arresto e la dura repressione delle forze dell'ordine, è tornata più agguerrita. Non ha nessuna intenzione di rinunciare alla Bielorussia. Sono pronta ad assumermi le mie responsabilità, ha detto stamani in un nuovo video, e ad agire da leader nazionale in questo periodo per gestire la transizione e organizzare nuove elezioni, ha dichiarato, ricordando di non aver mai voluto diventare una politica, ma che il destino ha voluto che si trovasse in prima linea contro l'arbitrarietà e l'ingiustizia. Sì, perché quando solo poche settimane fa si è candidata contro il presidente Lukashenko al potere da 26 anni, Tikhanovskaya era una semplice casalinga di 37 anni, moglie del blogger dissidente Tikhanovski, candidato d'opposizione alle presidenziali e arrestato e fatto fuori dalla competizione elettorale. In suo nome e di tutti gli oppositori dell'ultimo dittatore d'Europa, Tatiana si era intestata alla battaglia anti-Lukashenko, ma come previsto il presidente ha decretato la sua vittoria con l'80% dei voti. La comunità internazionale, fatta eccezione per Putin, non ha riconosciuto alla validità delle votazioni. Da allora, ininterrottamente, le strade si sono riempite di migliaia di persone che hanno manifestato contro il colpo di Stato dello Tsar di Minsk per chiedere un nuovo voto. Parliamo adesso del coronavirus con le preoccupazioni per l'aumento dei casi in questa fase, i timori in vista della riapertura delle scuole fino alla decisione ieri del governo di chiudere le discoteche, non consentendo più alle regioni alcuna deroga su questo punto. Questo che è il punto che riapre la polemica politica tra chi la definisce una decisione tardiva e chi addirittura invece all'opposto vede una forte penalizzazione, sia per i ragazzi che per i gestori del settore. Non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale. La riga contenuta nell'ordinanza emanata ieri sera dal Ministero della Salute vale le due pagine e segna l'effettiva portata della presunta svolta introdotta annunciata via social dallo stesso ministro Speranza. Niente più balli in discoteche e locali assimilati, nonché uso obbligatorio della mascherina anche all'aperto dalle ore 18 alle 6 della mattina, oltre che nei luoghi dove non sia possibile mantenere il distanziamento. Nessuna regione insomma potrà più derogare, non potrà più fare, cioè come hanno fatto praticamente tutte tranne Calabria e Basilicata. Sono bastati gli ultimi preoccupanti numeri e i timori a cascata sulla già fissata riapertura delle scuole tra meno di un mese a imprimere il giro di vite, con il divieto di qualsiasi deroga appunto a un divieto in effetti già contenuto. Nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 agosto scorso, evidentemente presso troppo poco sul serio dalle amministratori locali, compresi alcuni di quelli collegati nella videoconferenza di ieri pomeriggio, che fondamentalmente ha confermato la distanza che da mesi sta facendo da contorno polemico al coronavirus, quella tra ragioni sanitarie ed economiche, con le prime disturbate per dir così da certo esibito ottimismo e le seconde pronte a mettere in campo immancabili i danni al settore delle discoteche, con il risultato di far ripiombare, anzi meglio riballare, tutti nel solito bianco e nero. Di qua l'esperanza e i boccia supportati dal Comitato Tecnico Scientifico, che ancora ripetono di non poter vedere vanificati gli sporzi fatti nei mesi passati, di là quelli come il leghista Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, che insistono nelle gare qualsiasi correlazione evidenziata statisticamente tra il ballo e i casi di contagio. Mentre il suo segretario Salvini non perde l'occasione per attaccare il governo, follia prendersela coi ragazzi, le sue parole. Un altro presidente di regione, quello della Liguria Toti, prova a ritagliarsi uno spazio a sé a costo di apparire contraddittorio. Sono contrario alla chiusura delle discoteche, dice, ma favorevole al divieto di alcune scene che abbiamo visto in questi giorni. Ancora più in là, proprio dentro Forza Italia, c'è la Ronzulli, che la butta sull'ironia. Adesso scopriamo che il virus si è probabilmente voluto, è diventato un vampiro, si trasmette solo dalle 18 alle 6 del mattino, senza contare professionisti del settore come Linus, preso ora di mira sui social per un assenso troppo tardivo a cose fatte alla scelta governativa. In uno dei passaggi del messaggio che il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato al presidente della Fondazione per l'amicizia fra i popoli, il capo dello Stato, dice, cogliere il cambiamento di cui l'Unione Europea è stata capace nella risposta alla pandemia, nel progettare la ripartenza, è oggi la premessa di un rilancio dell'Italia. Il nostro Paese, ha detto Mattarella, ha dato prova ancora una volta delle sue energie morali, civili, soltanto nell'integrazione e nella solidarietà europea può adesso costruire un domani adeguato per i suoi figli. Parliamo adesso della situazione negli aeroporti con il caos derivante dalla scelta appunto di sottoporre a tampone chi rientra dai quattro Paesi a rischio. Solamente cinque gli scali per adesso operativi, la Lombardia che rinvia ai prossimi giorni questa misura che ha già dato però i primi risultati. È un ragazzo di Pescara che rientrava dalle vacanze a Malta, il primo caso positivo trovato all'aeroporto di Fiumicino dove in queste ore si eseguono i tamponi su chi ritorna dai quattro Paesi considerati a rischio, Grecia, Spagna, Malta e Croazia. I principali scali italiani sono ancora nel caos, in una corsa contro il tempo per attrezzarsi a eseguire i test sul posto alle centinaia di persone che sbarcano. Da oggi a Fiumicino partono 15.000 test rapidi, i tamponi che danno l'esito in pochi minuti, ieri ne sono stati eseguiti 800, resta la limitazione degli orari, i tamponi si fanno fino alle ore 18, chi atterra nelle ore successive deve aspettare il giorno seguente e andare nelle asle di competenza, un problema non di poco conto. In giornate attesa anche la decisione di Regione Lombardia sui test da effettuare negli scali dilinate, probabilmente in una struttura esterna e Malpensa dove si sta cercando uno spazio adatto. In mattinata la Regione Lombarda farà il punto con il Ministero della Salute. In Veneto al momento la Regione ha il primo posto dei contagi estivi, ieri erano 78 dei 479 in Italia, seguono il Lazio 68 e la Lombardia con 61 casi, allo scalo di Venezia, al Marco Polo due passeggeri su tre vogliono sottoporsi ai tamponi direttamente in aeroporto. Sono 12.000 quelli effettuati nelle ultime 48 ore ai turisti di rientro, soprattutto negli scali di Venezia e Verona. C'è il virus perché dovete pensare che almeno il 55% dei positivi ha una storia epidemiologica che è strettamente legata ad altre comunità, quello che va in Croazia, quello che viene dal Gabon e tutte le cose che sapete. In Liguria caos per contattare il numero verde dell'emergenza sanitaria che non è più attivo, la Regione invita a chiamare il 112 all'aeroporto di Genova. Non ancora chiaro quando e se si faranno i tamponi. Dopo la chiusura delle discoteche non si escludono nuove restrizioni, in una intervista al Corriere della Sera Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato Tecnico Scientifico rassicura. Riapriremo le scuole a ogni costo, i contagi aumentano ma siamo ancora in vantaggio e possiamo contenere l'epidemia. I nuovi contagi sono in maggioranza dovuti al rientro dei turisti piuttosto che dai focolai dei migranti, dice. Cinque nuovi casi in Sardegna dopo una festa a Porto Rotondo, di questi tre sono turisti. Nelle Marche sono otto, i nuovi casi nelle ultime 24 ore. A Piacenza due vigili del fuoco positivi al primo tampone. La sede di Castel San Giovanni è stata sottoposta a sanificazioni, controlli avviati su una quarantina di colleghi. A Villa Bate, alle porte di Palermo, sette positivi, venti sospetti di rientro da Malta e ancora, sempre dallo stesso paese, positivi. Tre ragazzi a Pescara. Ecco, dicendo che la Cina ha dato la sua prima approvazione ad un possibile vaccino contro il Covid-19, notizia che si è appresa poco fa, ma è un'approvazione che è stata data l'11 agosto scorso, resa noto solamente adesso, ed è un via libera che spiana la strada alla possibile produzione di massa in tempi rapidi nel caso appunto di un ritorno forte di questa pandemia. Andiamo a vedere qual è l'altro fronte che fa temere dopo gli aeroporti, chiaramente per il ritorno dai paesi a rischio, è quello, come sapete, dell'immigrazione. con la visita oggi del ministro dell'Interno Lamorgese e di quello degli esteri Di Maio in Tunisia per bloccare le partenze dei migranti. Missione Tunisi per la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro degli esteri Luigi Di Maio, una trasferta nella capitale nordafricana per mettere un freno alle partenze di migranti e sollecitare il meccanismo dei rimpatri. Quella dalla Tunisia rappresenta la nuova rotta del flusso migratorio. Dall'inizio dell'anno su 15.000 persone arrivate via mare sulle nostre coste, quasi la metà, 6.500, sono di nazionalità tunisina. Sono i cosiddetti sbarchi in autonomia che hanno praticamente raggiunto la quota delle partenze dalla Libia. giovani che fuggono da un paese in crisi con il Covid che ha spento il turismo e il governo che dopo le elezioni ancora manca. Dalle coste di Sfax a bordo di gommoni o barchette arrivano in poche ore a Lampedusa e sono in Europa. Queste sono le ultime immagini. In due giorni, tra sabato e domenica, sono arrivati sull'isola più di 700 migranti, prevalentemente dalla Tunisia. Questa notte altri arrivi. È così tutti i giorni un flusso che non si ferma, con l'hotspot pieno e l'ira del sindaco che chiede lo stato di emergenza. A Tunisi è previsto un incontro con il presidente della Repubblica, Caïs Saïed, il premier incaricato ad accompagnare la delegazione italiana. Ci sono due commissari europei, due rappresentanti di Bruxelles, che la ministra Lamorgese ha incontrato alla partenza all'aeroporto di Ciampino presenza significativa, quella dei due commissari europei, sottolinea il Viminale, dopo che l'Italia ha sollecitato un intervento diretto della UE nella trattativa con la Tunisia. Lamorgese è già stata a Tunisi meno di un mese fa. Dopo quella visita, il governo tunisino ha rafforzato la sorveglianza sulle spiagge il pattugliamento marittimo nella zona di Sfax. Sono stati arrestati i scafisti, ma le partenze non si sono fermate. L'accordo sui rimpatri, sospeso per mesi a causa del coronavirus, è stato riattivato da pochi giorni, ma il numero di 80 persone a settimana con voli charter, secondo il Viminale, è insufficiente. Per questo i ministri solleciteranno un aumento dei rimpatri e una velocizzazione delle procedure burocratiche. In una nota il garante per la protezione dei dati personali in merito alla vicenda dell'erogazione del bonus Covid scrive spetta all'Inps verificare caso per caso previo coinvolgimento dei soggetti controinteressati la possibilità di rendere ostensibili tramite l'accesso civico i dati personali richiesti, valutando anche la diversa posizione ricoperta dai titolari di cariche politiche elettive a livello nazionale e locale. Il garante si riserva di valutare dunque in separata sede eventuali altre ipotesi di comunicazione dei dati personali trattati in occasione appunto della vicenda in esame. Ma sul fronte della politica prosegue il dialogo tra i due partiti di maggioranza PD e 5 Stelle in vista di alleanze sui territori la cui strada è sempre irta di difficoltà. Nicola Zingheretti alza l'asticella. Non possiamo sbagliare, in gioco c'è la tenuta della nazione, non il governo, scrive il segretario del PD in un intervento sulla stampa. Senza questo esecutivo non avremmo potuto fronteggiare la pandemia, Salvini l'avrebbe gestita come Trump o Bolsonaro e non si sarebbero avuti gli straordinari risultati ottenuti nei rapporti con l'Unione Europea, spiega. Innanzitutto per il leader dem bisogna definire il piano di interventi per impiegare le risorse già destinate al Recovery Fund da mettere a punto già a settembre. Dalla ricerca alla scuola, dalla green economy a una pubblica amministrazione digitalizzata, dalle infrastrutture al sostegno a imprese e lavoro. Ma Zingheretti insiste anche sul ricorso al prestito del MES, il meccanismo europeo di stabilità, l'ex fondo salva stati. Serve per una nuova sanità, con i suoi oltre 36 miliardi, è una linea di finanziamento molto più vantaggiosa rispetto alla ricerca di risorse sul mercato ed è senza condizioni, ogni giorno sprecato e imperdonabile, avverte. Messaggio chiaro e forte al premio Giuseppe Conte e soprattutto ai 5 Stelle, che contro il MES, paventando il rischio di un nuovo caso Grecia, restano schierati. Parole che dopo la svolta pentastellata sancitare al doppio voto sulla piattaforma Russo, il SIA al terzo mandato per le amministrative e a coalizioni elettorali con i partiti tradizionali, suonano come un invito alla maggiore condivisione dell'azione di governo, alla costruzione di un'alleanza organica, prospettiva già salutata con favore dai vertici del PD e dei 5 Stelle, ma che suscita ancora più di un malumore tra i pentastellati più ortodossi, che denunciano l'abbandono dei principi delle origini e anche a chi nel Partito Democratico non vuole rinunciare alla vocazione maggioritaria. Ma la strada delle alleanze sui territori è irta di ostacoli per le amministrative del prossimo anno, sulla ricandidatura di Virginia Raggi a Roma, il nodo di Zingaretti è stato categorico e per le regionali di settembre. I tempi per siglare un'intesa su larga scala, per ora operativa solo in Ligure, sul nome di Ferruccio Sanza, antagonista del governatore di centrodestra Giovanni Toti, sono strettissimi. Il PD continua il pressing per far convergere i 5 Stelle sui propri candidati nelle Marche in Puglia, regioni che potrebbero essere decisive nel bilancio della tornata elettorale, testa sul governo e sul nuovo corso del Partito Democratico e dei 5 Stelle. Ma se nelle Marche, dove il centrosinistra schiera un candidato nuovo, Maurizio Mangialardi, che dovrà vedersela con Roberto Acquaroli, centrodestra, gli ostacoli da rimuovere non sembrano insormontabili, più ardua è la partita pugliese. Qui i pentastellati sono stati fieri oppositori del candidato PD, il governatore uscente Michele Emiliano, che dovrà vedersela con Raffaele Fittu, centrodestra. Passiamo adesso alla cronaca perché si continua a cercare il piccolo Gioele e con lui la verità circa la scomparsa e la morte, che spieghi il giallo appunto, della morte di Viviana Parisi e la scomparsa del suo figlio di 4 anni nelle campagne attorno all'autostrada. Gli inquirenti adesso stanno puntando sulla situazione psicologica della donna, che sembrava avere timore che i servizi sociali potessero toglierle il figlio. Due settimane di ricerche, di ipotesi, di indizi su cui lavorare, ma di Gioele ancora nessuna traccia. Il giallo di Caronia, la morte di Viviana Parisi e la scomparsa di suo figlio di 4 anni nelle campagne attorno all'autostrada Palermo-Messina sembra lontano da una soluzione. Troppe le domande senza risposta, mentre si continua a cercare con unità cinofile, droni, uomini, nei pozzi, nei cespugli persino sottoterra qualcosa che possa dire agli inquirenti cosa è successo quel lunedì 3 agosto. Gioele non può essere morto nell'incidente che è stato di lieve entità, dice a titolo personale illegale della famiglia Mondello, quella del papà di Gioele, che avrebbe lanciato messaggi rassicuranti a sua moglie Viviana torna a casa, non succederà nulla perché spaventato dalla situazione psicologica della donna. Un disagio che sarebbe cominciato durante il lockdown e la conseguente paura dopo alcune visite all'ospedale che il bambino le venisse tolto dai servizi sociali. Un dramma causato da un malessere personale quindi che costituisce agli occhi degli inquirenti un'ennesima pista sulla quale lavorare, ma i punti oscuri al momento rimangono tutti. Come che fine abbia fatto la famiglia che per prima ha prestato soccorso e dato l'allarme? I testimoni dell'incidente avvenuto sull'autostrada che nonostante i ripetuti inviti di avvocati e inquirenti continuano a non rispondere agli appelli sembrano spariti nel nulla, irrintracciabili testimonianze che potrebbero aiutare a capire se Gioele fosse ancora vivo dopo l'impatto con il furgone degli operai che stavano lavorando sull'autostrada. Il bimbo, dicono le immagini delle telecamere di sorveglianza, non era legato al suo seggiolino. In attesa degli esiti finali dell'autopsia che chiariranno come e quando è morta Viviana Parisi, resta viva anche la pista dell'aggressione da parte di due cani Rottweiler che si aggirano nella zona del traliccio dove è stato trovato il corpo della donna. Alcune ferite sarebbero compatibili con questa ricostruzione, ma nell'attesa di risposte definitive si continua a cercare per capire che fine abbia fatto il piccolo Gioele. Adesso andiamo negli Stati Uniti dove resta alta la tensione e la polemica sul voto per posta e dove si assottiglia soli quattro punti di vantaggio, appunto il vantaggio di Biden in ticket con Kamala Harris su Donald Trump. Ma oggi prende il via la convention democratica, la cosiddetta quattro giorni di investitura che svelerà al Paese anche la possibile squadra di governo e che per la prima volta nella storia degli Stati Uniti sarà del tutto virtuale. Gli alberghi sono chiusi, i ristoranti vuoti, il gigantesco Pfizer Forum appena costruito deserto. Questa è la convention democratica nei giorni della pandemia. A Milwaukee, cittadina scelta perché il Wisconsin è considerato uno degli stati chiavi per vincere le elezioni di novembre, a dirigere le operazioni c'è solo qualche funzionario di partito e nulla più, neanche i due candidati. Joe Biden, l'ultimo a parlare giovedì nel suo discorso di investiture, Kamala Harris, vice appena scelta, appariranno da casa, così come tutti i principali protagonisti in una sorta di rimpallo mediatico che vedrà salire sul palco virtuale privo di commozione, applausi, bandiere e palloncini. Barack e Michelle Obama, Hillary e Bill Clinton, Bernie Sanders e molti altri. Facile per Trump cercare di oscurare l'evento con una serie di discorsi negli stessi orari di quelli degli avversari. La prima convention senza convention, la parola infatti significa convegno, raduno, si apre in un periodo di crisi con pochi precedenti negli Stati Uniti, 170 mila morti per Covid, il più alto numero di contagiati al mondo, 40 milioni di disoccupati con un'economia che non accenna a riprendersi, proprio perché la pandemia ancora non è stata contenuta e le piazze piene per una delle più grandi proteste a sfondo razziale che il Paese abbia mai visto. Eppure rischiano di non essere questi gli argomenti sui quali democratici e repubblicani si scontreranno. Ad arte è stata creata una crisi che Biden e i suoi devono affrontare con urgenza, il depotenziamento voluto da Donald Trump del sistema postale per sopprimere il voto da casa. Milioni di preferenze di cittadini rischiano di non venire contate nell'anno in cui, con il Covid, recarsi ai seggi è un rischio. Per questo la speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha richiamato deputati e senatori dalle ferie per lanciare un'inchiesta sull'operato del capo delle poste, Louis DeJoy, fedelissimo di Trump, che secondo i democratici starebbe attivamente sabotando le elezioni, rallentando il servizio. E ad arte è stata creata anche l'ultima polemica capace di oscurare i veri problemi del Paese, la questione della nascita della candidata alla vicepresidenza Kamala Harris, così come per Obama la destra razzista sostiene che non sia americana. Temi che spaccano l'elettorato su linee partigiane, nonostante il caos pandemia e l'economia picco, consentono a Trump di non crollare nei sondaggi. In alcuni stati chiave a dividere i due contendenti c'è solo qualche punto, esattamente come con Hillary Clinton quattro anni fa. Ci fermiamo per qualche istante e poi la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio, apriamo la pagina sportiva, lo facciamo con il calcio, dopo che ieri sera in Europa League è arrivato il nome della prima finalista, sarà il Siviglia che ha battuto in rimonta il Manchester United. Siviglia, squadra espertissima di questa Coppa e che adesso aspetta di conoscere la rivale della finale di venerdì sera. Potrebbe essere l'Inter che per staccare il pass deve battere lo Shakhtar Donex. È lo sprint finale, in fondo c'è il senso di una stagione la più lunga della storia del calcio. L'ultima volta che l'Inter arrivò a giocarsi l'accesso a una finale europea erano i tempi di Giuseppe Mourinho e del Triplete, dieci anni fa. Basta questo per capire che il momento è di quelli importanti. Il presidente Zhang è volato in Germania accogliendo l'invito di Antonio Conte, sorrisi e abbracci a favore di telecamera. A sottolineare il nuovo clima che si respira nel ritiro nerazzurro. I discorsi sul futuro sono rinviati, se ne riparlerà quando la campagna di Germania sarà finita. Prima c'è da conquistare una finale europea, un'impresa che a Conte è sempre sfuggita. Per farlo bisognerà battere lo Shakhtar, avversario più insidioso di Haetafe e Bayer Leverkusen, talento possesso palla, verticalizzazioni improvvise e veloci. La parola paura non fa parte del mio vocabolario e non voglio che faccia parte del vocabolario neanche dei miei calciatori. Noi abbiamo grandissimo rispetto sicuramente nei confronti dello Shakhtar perché sappiamo di affrontare una squadra che a livello europeo è una squadra che si è confermata in tutti questi anni e possiede giocatori di grande qualità. Nessun dubbio di formazione per i nerazzurri. Squadra che vince e non si tocca giocheranno gli stessi che hanno battuto il Bayer Leverkusen, difesa a tre, centrocampo a cinque e questo significa che Eriksen partirà dalla panchina ma il danese può essere l'arma in più per cambiare il destino della gara. Per battere lo Shakhtar, ha detto Conte, sarà importante non sbagliare nulla. Servirà l'Inter degli ultimi tempi, solida dietro, dinamica in mezzo, spietata davanti. Servirà soprattutto che Lukaku continui a segnare, come ha sempre fatto in Europa, nelle ultime nove gare. Se tutto dovesse andare per il meglio ad attendere l'Inter in finale venerdì sera ci sarà il Siviglia che ha battuto in rimonta il Manchester United. confermando di essere squadra solida e con un gioco definito. Ha vinto in rimonta a rigore impeccabile di Bruno Fernandes, ha risposto Suso, poi nel finale De Jong ha chiuso i conti. Per gli spagnoli si tratta della sesta finale conquistata, 14 anni dalla prima volta quando questa competizione si chiamava ancora Coppa UEFA. Per la cronaca, tutte le volte che il Siviglia è prodato in finale, ha poi vinto. Torniamo adesso su quanto accaduto ieri nella gara di MotoGP in Austria, che sarà ricordata come quella della grande paura per Valentino Rossi, due ruote che si toccano e motociclette che volano come proiettili. Sono immagini anche che ci dicono quanto la continua ricerca di nuovi limiti spesso diventi temeraria, sfida al caso e al destino. Il giorno dopo le immagini della tragedia sfiorata continuano a far spavento. Valentino Rossi è ancora sotto shock. Ostacolata da Zarco, la moto di Morbidelli, un proiettile impazzito di un quintale e mezzo di peso, passa a qualche centimetro dalla sua testa e dalla sua Yamaha numero 46 alla velocità di 300 km all'ora. Non ho mai avuto una paura simile in tutta la mia carriera, la confessione del miracolato campione di Tavuglia. 25 anni di gare mondiali e 9 titoli vinti. Chiunque al suo posto avrebbe già salutato il paddock, ma la voglia di superare se stesso lo mantiene saldamente in sella. Ieri, seppure sconvolto da quanto poteva accadere, è tornato in pista seguito da quasi tutti gli altri piloti. Probabilmente non gli è stata data scelta, eppure nessuno, tranne i due protagonisti della carambola, ha gettato la spugna, compreso lo spagnolo Vignales, al fianco di Valentino, nel momento più drammatico del Gran Premio d'Austria. Un incidente pazzesco, il più terrificante degli ultimi tempi, causato dall'esasperazione di chi insegue la vittoria, lasciandosi guidare dalla follia piuttosto che dal buonsenso. Zarco è un mezzo assassino, ha detto Morbidelli, puntando il dito nei confronti del recidivo francese, che per ora ha evitato sanzioni. Soltanto un miracolo, o più laicamente una fatalità, ha evitato stavolta conseguenze peggiori. Ma la domanda adesso è quanto sia lecito spingersi, al di là di ogni limite, per sfidare il destino, alzando pericolosamente la soglia del rischio. Ma domenica si tornerà su questa stessa pista, dove certamente nessuno si tirerà indietro. Viene però voglia di chiedersi, fino a quando? Era l'ultimo servizio, termina qui questa edizione del Telegiornale. Grazie per essere stati con noi, vi lascio alla programmazione della Sette, l'informazione torna alle ore 20. Buon pomeriggio.